Salve amici, bellissima giornata di settembre e io ne ho approfittato per farmi una bella passeggiata a Cagliari. Incomincio qui da Via Roma, per poi proseguire Viale Regina Margherita, arrivare in Piazza Costituzione e salire naturalmente nel Bastione Saint-Rémy. Buona visione! Buona visione! Il Bastione di Saint-Rémy è una delle fortificazioni più importanti di Cagliari, situata nel quartiere di Castello. Il nome deriva dal primo vicerre piemontese Filippo Guglielmo Polavicini, barone di Saint-Rémy. Alla fine del XIX secolo venne monumentalmente trasformato in una scalinata, sormontata dall'Arco di Trionfo che dà accesso ad una passeggiata coperta e ad una grande terrazza panoramica. Venne costruito alla fine del XIX secolo sulle mure antiche della città, risalente agli inizi del XIV secolo, collegando fra loro i tre bastioni meridionali della Zecca, di Santa Caterina e dello Sperone, per unire il quartiere Castello con quelli sottostanti di Vilanova e Marina. Grazie a tutti. 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 Si prosegue in direzione della cattedrale di Santa Maria Assunta e di Santa Cecilia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La cattedrale, la cattedrale, oltre ad essere un importante luogo di culto cattolico, in cui si svolgono le principali celebrazioni dell'anno liturgico e presidute dall'Arcifescovo, è uno dei più notti e un'altra cattedrale, Grazie a tutti. 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 Spero che il video sia stato di vostro gradimento e un ciao e al prossimo video. A presto. Grazie a tutti.